Siamo qui con Colado, giocatore della Virtus.Libera, oggi il protagonista assoluto. Due gol, uno più bello dell'altro, che hanno permesso alla tua squadra di vincere questa partita. Sono molto felice per i gol fatti, però molto più felice per la nostra vittoria che nei play-off. Sappiamo che tutte le partite sono una finale diversa del campionato. Oggi abbiamo fatto il nostro dever di vincere in casa. Sono molto contento per questa nostra vittoria. Avete giocato da squadra con la mentalità giusta. Quando bisognava difendere, tutti quanti difendavate, avete giocato da squadra? Sì, sì. Per vincere un campionato, per vincere queste partite di play-off, dobbiamo uno correre per l'altro, capito? Dobbiamo dare proprio il sangue in campo, tutti insieme. Quello che dico a tutti, se noi facciamo tutto insieme, possiamo arrivare lontano ancora. Ora testa al ritorno. Sì, sì, ora testa al ritorno, riposare un po' adesso. Lavorare bene la settimana, dopo abbiamo questa transferta a Messina. Esperemo di tornare di là qualificato per la finale.